Vorrei capire che cos'è questo colore rosso, che cosa sta facendo? Ma è strano, è inquietante. E' sangue, che cos'è questo colore rosso? Forse si è sporcato del sangue di qualche preda? Chi è che pigola in questa maniera? Sono le ore 20 e 52 del 22 maggio 2023. Ma chi è che sta pigolando? Siamo tornati da lui. Questo è un colore rosso sangue. Si è ferito lui? Oppure è il sangue di qualche preda? Non riesco a capire. Siamo tornati da figlia. Siamo tornati da lui. Noi. BuonExplici.